Musica Cosa faccio io per il mio benessere e per il benessere della comunità? Sono consapevole della mia responsabilità Scrivo un'agenda nuova Mi prendo cura Cambio scenario Lavo spesso le mani Condivido quello che sento Mantengo la relazione e la distanza Il futuro è dentro di me, immagino Non siamo in guerra, l'altro non è un nemico Sono attento, mi formo e rifletto Mi muovo a piccoli passi Convivo col virus insieme a te Faccio un passo di coraggio Voglio dire tanti grazie Creo una pera d'arte, me stessa Mi proteggo, fallo anche tu L'educazione e promozione della salute ha come obiettivo il benessere delle persone L'organizzazione mondiale della sanità precisa che per raggiungere il benessere è necessario sviluppare e potenziare le life skills Le life skills sono le competenze emotive, relazionali e cognitive essenziali per sviluppare comportamenti responsabili e autentici L'organizzazione e promozione della salute propone percorsi cognitivi in vari ambiti della comunità, scuole, luoghi di lavoro, città di casa Questa formazione è mirata alla crescita personale e all'acquisizione di consapevolezza rispetto alle scelte di salute Allenando le life skills si rinforzano i fattori protettivi, autostima, autoefficacia e resilienza In questo periodo c'è bisogno di resilienza Ripartiamo con Spice